Si svolgerà nella cornice della Valdichiana Aretina la sesta edizione di Ruote nella Storia, il tradizionale raduno di auto storiche organizzato da Alciarezzo e da Alci Storico in calendario per domeniche a 6 ottobre, già 60 i mezzi iscritti. Quest'anno abbiamo scelto Cortona anche perché Cortona rappresenta l'eccellenza di un procegno interessantissimo per poter far ospitare tante macchine d'epoca che verranno nel corso di quella giornata domenica. Per noi è una grande opportunità anche per promuovere il territorio. In quella giornata i tanti partecipanti vivranno la città nel suo complesso anche come ospiti dell'amministrazione comunale, anche potendo visitare il MAEC, oltre che vivendo la città. È un modo per promuovere l'automobilismo d'epoca che è un modo per valorizzare dei veri e propri cimeli ma che sono frutto dell'ingegno umano e anche per promuovere il territorio stesso perché durante la giornata ci sarà la ripresa di Asci Sport che poi trasmetterà a livello nazionale questa iniziativa. Ringraziamo Asci, il presidente Bernardo Menini e tutto il team per aver scelto la nostra località, quindi Cortona. Ruote nella storia, credo che non ci sia meglio luogo che Cortona per parlare di storia, in questo caso di storia delle auto, ma tuttavia non è la prima volta che le autostorie toccano il nostro territorio, in questo caso l'organizzazione di Asci, siamo molto contenti, ospiteremo l'arrivo delle auto la mattina con una collazione assieme a loro per poi procedere anche durante il giorno alle premiazioni della sala del Consiglio Comunale. Ci sarà un itinerario molto interessante, toccheranno anche Foiano sì, ma torneranno poi tutte le auto a Cortona. Quindi un grazie ancora per l'impegno profuso e soprattutto per portare ricchezza ancora una volta al nostro territorio cortonese.